Oggi dovevamo occuparci brevemente ancora di alcuni aspetti relativi alle conseguenze del mercato unico europeo nel settore agricolo. Ma poiché nei giorni scorsi vari telespettatori mi hanno posto interrogativi in ordine alle reali conseguenze della concorrenza sul piano europeo, vediamo di chiarire alcuni aspetti di questa nuova prospettiva. Indubbiamente con il mercato unico europeo si creerà un nuovo contesto di competitività il quale se da una parte creerà le condizioni per un abbassamento dei prezzi dei prodotti con un conseguente miglioramento generale dal punto di vista economico, avremo anche delle situazioni in cui potranno le regole della contrattazione subire dei condizionamenti notevoli. Potremmo avere ad esempio la creazione di grossi monopoli economici i quali saranno in grado di influenzare determinati settori economici non solo sul piano locale o nazionale ma a livello europeo. Non possiamo inoltre escludere la possibilità che i governi centrali attuino iniziative tese a difendere in modo particolare gli interessi nazionali. A riguardo va peraltro detto che in base al trattato istitutivo della comunità economica europea sono previste norme ben precise le quali adeguatamente applicate ed interpretate dovranno garantire il massimo rispetto delle regole del gioco nell'ambito delle contrattazioni. Sarà cioè necessario, e il trattato istitutivo della comunità lo prevede e ne sarà garanzia, far sì che vi sia una concorrenza leale nell'ambito della comunità europea. Questa deve essere una garanzia per tutti coloro che, se ben preparati, vorranno impegnarsi in varie imprese. Ci rivedremo sabato prossimo.